Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Utrend per Sky TG24 sulle intenzioni di voto per partito. Fratelli d'Italia cresce dello 0,6% al 28,8%. Il PD perde il mezzo punto al 22,7%. Il Movimento 5 Stelle cresce dello 0,9% all'11,9%. Forza Italia scende dello 0,7% al 9,1%. La Lega scende dello 0,2% all'8,9%. AVS scende dello 0,7% al 6,3%. Azione scende dello 0,8% al 2,4%. Italia Viva scende dello 0,3% al 2,3%. 2,2% più Europa 2,2%. Altri partiti 5,5%. Astenuti più indecisi 43,9%. Grazie a tutti e arrivederci a presto.